Il problema di Dekisugi! La classe ma il tuo rendimento è calato di molto e di conseguenza anche i tuoi voti! Parla! Hai forse qualche problema che ti affligge? No, signore! Allora devi fare qualcosa perché se continui così non sarai più il primo della classe, hai capito? Mi auguro vivamente che tu torni al più presto ad avere la stessa media che hai sempre avuto! Lo spero! Bene, puoi tornare al tuo posto! Povero Dekisugi! Non posso credere che l'abbia ripreso! Avanti amico, non te la devi prendere! Ti diamo ufficialmente il benvenuto nel clan! Guarda Nobita, lui prende sempre dei pessimi voti eppure non perde mai il suo buon umore! Eh già, perché so che tanto peggio di così non posso davvero andare, perciò sono tranquillo! Lo sai che mi hai offeso? È vero, scusa, ma dovresti smetterla di voler essere sempre il migliore! Su me ho ragione, ogni tanto mettiti a livello di noi poveri mortali! Ragazzi, fatela finita! Che cosa c'è a Shizuka? Vergognatevi, non è questo il modo di consolare il povero Dekisugi! Dai, vieni con me, lasciali i perdi! Ma cosa fa? C'è forse qualcosa che ti preoccupa? Come? Con me puoi confidarti, sai? Sei molto gentile! Sempre la solita storia, le ragazze gli fanno un sacco di moine appena lo vedono un po' in difficoltà! Che disgusto! Anche Shizuka è come le altre! Ciao mamma! Oh, per fortuna sei arrivato! Sì, caro, Nobita è appena tornato, siamo a posto! Che cosa succede? Papà ha dimenticato dei documenti che gli servono per la riunione di oggi, si è accorto poco fa! Ti dispiacerebbe fare un salto in ufficio a portargli lì? Cosa dovrei fare? Io volevo schiacciare un pisolino! Cioè, volevo fare i compiti, mi dispiace, non posso! Trova una scusa migliore, perché tanto tu i compiti non li fai mai, corri da tuo padre! Non è giusto però! Come sapeva che non avevo intenzione di fare i compiti, una madre non dovrebbe mai dire una cosa del genere! Però ci ha azzeccato in pieno, vero? No, non questa volta! Se davvero hai tanta voglia di studiare, forse ho io qualcosa per aiutarti a fare la tua consiglia! Su, serio? Che cos'è? La data oggetti fono! Prima lo applichi sulla cornetta e poi componi il numero Sì, pronto, sono Doraemon, sto per inviarti i documenti che aspettavi Consegna effettuata, adesso puoi metterti a fare i compiti come volevi Voglio fare una sorpresa a Shizuka Oh, siamo alle solite, devi fare subito i compiti! Pronto Shizuka, ciao, sono Nobita! Oh, ciao Nobita, perché mi hai chiamato? Ti vado a giocare a prendersi? È inutile che ti allontani, tanto ti prenda lo stesso! Ehi, dove sei andato a finire? Vieni, guarda! No, lasciami! Ah, finalmente, l'ho preso! Oh, la sua donna! Doraemon! Devi aiutarmi! L'ho fatta grossa, di certo Shizuka sarà furibonda con me! Stavolta non ho intenzione di aiutarti, è la giusta punizione che meriti per aver mentito! Non essere così severo, ti prego, ho davvero bisogno del tuo aiuto, dai! Eh, va bene, ti aiuterò se prometti che ti metterai subito a fare i compiti come hai detto! Prometto, li farò, li farò! Come? Shizuka è qui! Ti fa? Che cosa devo fare, eh? Calma, ti ha detto che è venuta solo per chiederti un favore! Oh? Lei vuole un favore da me! Senti, mi dispiace per quanto è successo poco fa... Non ti devi preoccupare, tutto a posto! Davvero? Sono qui per chiederti di aiutare De Kisugi con quel tuo strano dispositivo telefonico! E che cosa dovrei fare? È ossessionato da un tizio che lo chiama in continuazione per tutta la notte e non lo fa dormire! Oh, poveretto! Il suo telefono comincia a squillare appena diventa buio e poi va avanti fino quasi all'alba! Sei fritto, D'Oro! De Kisugi non hai scampo! Le minacce stanno diventando sempre più pesanti e lui non sa che cosa fare! Oh! Ma è una cosa terribile! Adesso capisco perché va così male a scuola! Chi fa telefonate anonime dovrebbe essere punito dalla legge, è uno scandalo! Giusto! Sicuramente si tratta di qualche mascalzone! Ok! Stasera andremo a casa di De Kisugi e prenderemo quel farabutto con l'aiuto del tuo ciuschi! Grazie, siete molto carini! Ehi! Aspetta, Shizuka! Stavi dimenticando la tua gonna! Ti dispiace a passare la voce! I vicini potrebbero sentirti! E che cosa penserebbero? Ha ragione! Sei sempre il solito pasticcione! Mi chiedo scusa! Sarò meglio dormire un po' C'è, per stare sveglio questa notte non serve! Potremmo usare la macchina del tempo! Buon'idea! Veramente? Sì, tu lascia fare a noi! Vi ringrazio, siete molto gentili! No, è un vero piacere! Bene, e ora non ci resta che aspettare la telefonata! Finalmente metteremo le mani su quel mascalzone! Ehi! Sì, tu ci sono! Eccoci, a tutti noi! Hai! Ehi! Ehi, c'è! Ehi! 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 Ma che cosa serve? Oh no, mi è rimasta in mano una gonna Sono io, ho chiamato per sentire come era andata Credevo che fosse tutto finito Mi dispiace, senti, ti restituisco la gonna domani, va bene? Prima di infilare la mano dobbiamo accertarci dell'identità di chi ci chiama Sì, hai ragione Rispondo io Sei fritto, Tekisugi Ora ci siamo, è lui Sei spaziato Non fanno scappare Adesso lo tiro fuori, ma ne solo non ce la faccio, aiutami Eccolo preso Guarda chi è Che bravi l'avete preso Sì, è Gariband Mi dispiace, ti chiedo scusa Adesso spiegami Non capisco perché hai fatto una cosa del genere Perché sono sempre stato il secondo della classe Però con uno come te è praticamente impossibile diventare il primo Io lo desideravo tanto Posso capirlo, ma come facevi a stare sveglio in classe se non chiudevi occhio tutta la notte? Dormivo nel pomeriggio tornato a casa da scuola Poi stavo sveglio di notte e ti chiamavo mentre facevo i compiti Ragazzi, che vitaggia che hai fatto? Mi dispiace, non avrei dovuto farlo Potrei mai perdonarmi Ma sì, è tutto dimenticato Ti perdono Tutto è bene, quel che finisce è bene Quindi è tornato tutto a posto adesso Sì, però non posso dirti il nome del colpevole Sai, l'ho promesso Non importa, forse è meglio che nessuno a scuola lo venga a sapere Puoi aspettare un attimo Cosa cerchi? Ecco la gonna che ti ho preso la notte scorsa Papà! Mettila mia! C'è gioco, aspetta! Ma come non hai la gonna che ti ho strappato ieri notte? Smettila! Stai gioco!